Oggi abbiamo qui un nostro ospite, anzi un nostro amico che è tornato a ritrovarci, sto parlando di Fabio Songa, buongiorno da quel di Chiravalle Buongiorno Fabio, buongiorno a chi ci ascolta E allora da Chiravalle con furore arriva appunto Fabio Songa che ci viene ad aggiornare sulla situazione stadio, ma non solo stadio, anche Unesco Perché insomma state facendo delle manovre molto molto interessanti, allora iniziamo dalla questione stadio, cosa dicono gli arbusti di Chiravalle, cosa dicono le zone interessate? Direi che c'è una grande confusione sotto il cielo per citare qualcuno La situazione è molto in movimento, io posso dirti che come comitato abbiamo fatto un'audizione in città metropolitana due settimane fa E sono rimasto assolutamente colpito dall'attenzione che ci hanno riservato, abbiamo fatto due ore e mezza di dibattito serrato in cui ci hanno ascoltato Hanno condiviso le nostre obiezioni e soprattutto abbiamo capito che la maggioranza in città metropolitana è contraria allo stadio E siccome città metropolitana è uno dei quattro enti che partecipa all'accordo di programma, questo per noi è molto importante Adesso ci stiamo, io personalmente, noi di Chiravalle ci stiamo orientando anche molto sulla questione UNESCO Ecco, perché cosa avete pensato di fare? Molto ovviamente posso dire, sarebbe stato, andava fatto a prescindere dallo stadio questa cosa No, no, di fatti ecco, su questo io vorrei essere molto chiaro per evitare fraintendimenti E l'ho detto anche in tutte le sedi istituzionali in cui sono stato presente La questione di Chiravalle Patrimonio dell'Umanità UNESCO l'abbiamo posta la prima volta ufficialmente in un documento nel 2011 Partecipando a un bando europeo come associazioni in collaborazione con l'allora provincia di Milano e col comune di Milano Da allora noi ne abbiamo parlato in tantissime occasioni, abbiamo fatto tanto perché le istituzioni recepissero questa nostra proposta Quindi, in una estrema sintesi, la questione di Chiravalle Patrimonio dell'Umanità è assolutamente indipendente dalla questione stadio Però Chiravalle Patrimonio dell'Umanità è incompatibile con uno stadio a San Donato Ecco, la questione Patrimonio dell'Umanità UNESCO non è solo però appunto avere una biandirina, avere un punto in più su una mappa O un cartello marrone per intenderci che dica qua c'è un patrimonio UNESCO e ben di più Sì, guarda, è molto 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 di più, nel senso che proprio all'ultima riunione delle commissioni del comune a cui ho partecipato In più interventi hanno detto che è un viaggio che abbiamo cominciato a intraprendere Ma che tutto sommato la meta è meno importante del viaggio stesso Un concetto romantico della tensione verso Perché questo? Non è una banalità Perché per ragionare e per fare il percorso che è molto lungo, complicato, dopo magari posso dire qualcosa in proposito Bisogna mettere in moto tante forze, tante idee, tante intelligenze Io devo dirti per esempio che tramite un'amica ho contattato la maggiore storica che si è occupata Dei Benedettini, dei Cistercensi, di Chiaravalle E quando le ho detto questa cosa era entusiasta e si è offerta, come poi sarà Per far parte del comitato scientifico che discuterà di queste cose Dopo magari spiego un po' bene quali saranno i passaggi che sono tanti e lunghi e complicati Ma infatti dopo ce lo spieghi bene Prima però ci ascoltiamo una canzone che arriva proprio da voi Le Olimpiadi c'erano il loro inno, ad esempio E quindi anche il gruppo di Chiaravalle, gli antagonisti dello stadio O anzi i fautori della bazzia, chiamiamoli così Insomma avete una sorta di inno E quindi adesso ce l'ascoltiamo, poi ci racconti anche come è nata questa idea Come è nata appunto l'idea di avere una canzone Che racconti Chiaravalle, racconti quel luogo che è l'abbazia E non solo, perché poi ricordiamo che noi parliamo sempre di abbazia Ma c'è tutto il borgo, c'è tutto poi quello che è la zona intorno all'abbazia di Chiaravalle Che insomma è importante e che insomma viene minacciata dall'arrivo Chissà appunto di questa costruzione immensa, immane, di questa opera immane Che potrebbe essere lo stadio appunto di San Donato Che comunque è di proprio lì a confine E' proprio attaccato lì a Chiaravalle E questa è la canzone di Chiaravalle La voce di Fabio Valenti Testi di Claudio Bernieri Con le voci sotto il vestito anche di Francesca Fagiani Le chitarre, l'arrangiamento di Luciano D'Addetta Ma non ne hai fatta difficile, me ne hai fatta E basso Enrico Santarelli La batteria di Sergio Bellotti Il violino di Gianfango Messina Il piano di Sonia Vettorato Come dicevo appunto testo e musica di Claudio Bernieri Come siete arrivati a una canzone così? Cioè interessante, quasi anche di altri tempi E soprattutto mi piace che tirati in ballo ancora i monaci Che alla fine, ricordiamo sempre in tutta questa storia Il sottotitolo potrebbe essere Anche i monaci nel loro piccolo si incazzano Perché sono riuscito a fare incazzare anche i monaci Sì guarda, allora innanzitutto tra dieci anni L'abbazia di Chiaravalle compie novecento anni Novecento, wow Quindi stiamo parlando di tempi lunghissimi Di una fetta importante della storia della nostra città E è una storia che si basa soprattutto sui monaci Che da San Bernardo in poi hanno trasformato un luogo di palude In uno dei più fertili al mondo La canzone è andata in modo molto casuale Nel senso che Claudio Bernieri Che è un giornalista È un musicista È un compositore Ha sentito parlare dello stadio È venuto a Chiaravalle Lui abita lì vicino È venuto a Chiaravalle Ha girato un po' Ha chiesto di parlare con qualcuno Qualcuno gli ha fatto il mio nome Ci siamo incontrati Ci siamo bevuti un po' di caffè Di cappuccini Abbiamo parlato Dopodiché lui si è appassionato a tutta la vicenda Ha fatto dei servizi molto belli Sul suo blog Che si chiama Il Reporter Indignato Su Chiaravalle Ma non solo in negativo Sugli aspetti appunto Sulle preoccupazioni per il futuro Ma anche per ciò che c'è Ha fatto un bellissimo servizio Su Terra Rinata Che è un giardino condiviso In cui la natura si incontra con la spiritualità E poi ha cominciato a parlare con dei suoi amici Questi che hai citato Ed è venuta fuori una canzone Che loro hanno scritto E hanno eseguito per la prima volta Due volte Domenica scorsa Domenica 6 ottobre Perché abbiamo fatto una grande iniziativa Di apertura del percorso Chiaravalle per l'umanità Loro l'hanno suonata Sono venuti È tutto qualcosa che hanno fatto Per passione gratuitamente Tieni conto che Luciano D'Addetta Qualche giorno prima Aveva vinto il Leone di Vetro A Venezia Per la colonna sonora Del film Jacopo Ortis E che tra l'altro Ci ha regalato in anteprima A Chiaravalle Una parte della colonna sonora Devo dirti bellissima E quindi la canzone è nata così Non so che strada farà Claudio è diventato un mio amico Devo dire Se posso permettermi Un fatto personale Che dopo un bel po' Che parlavamo insieme Ho capito che lui Ha composto una delle canzoni Più importanti Per chi come me Ha fatto parte Dei movimenti studenteschi Degli anni 70 Che è Piazza Fontana La Luna è rossa Che quando l'ho scoperto Come dire Ho avuto di fronte a me Che beveva il caffè Un mio mito Perché l'ho cantata E l'ho suonata Per decenni E insomma Si fa capire Insomma È interessante come davvero Poi tante tante Intelligenze Tante tante Intellettualità Tante spiritualità Anche in realtà Si stanno incontrando Intorno a un luogo Che posso dire Questo è il lato positivo Di tutta questa storia No no Difatti Questo è un lato fondamentale Ti dico anche a livello personale Io in quest'anno La prima assemblea Sullo stadio a Chiara Valle L'abbiamo fatta A Chiara Valle Il 26 settembre Quindi è passato un anno In quest'anno Ho conosciuto Centinaia di persone Anche di studiosi Di appassionati Ma anche di semplici milanesi Che vengono a Chiara Valle E rimangono sempre affascinati Ma anche perplessi Perché un luogo così Va valorizzato Noi l'abbiamo pensato Tanti anni fa Che la valorizzazione Dovesse passare Per essere proclamato Patrimonio in umanità Non l'edificio Non il borgo Ma il sistema Paesaggistico E culturale Che è un sistema Ovviamente costruito Sul sistema Abaziale Di Chiara Valle Chiarissimo Allora Facciamo così Adesso lo cerchiamo un attimino Perché ci sono Due o tre consigli Per gli acquisti Se no qua Ci fanno chiudere la baranca Quindi bisogna trovare Il modo di tenerla aperta Ma poi torniamo Perché voglio parlare bene Di questo percorso Che si sta facendo Quindi Quali saranno I vari step Cosa Chi e cosa state facendo Siamo stati un bel gruppo Anzi Forse ne serve Anche di più Quindi Chi può Venga a dare una mano Siamo aperti a tutti Benissimo Allora andiamo con un po' di musica Musica di oggi Dagli anni 70 Passiamo da Chiaravalle Poi arriviamo a oggi Sto parlando di Olli e Angelina Mango Con Per due Come noi Alle 7.25 minuti Good morning Minano Lucio Battisti Una donna per amico 8.34 minuti Crystal Radio Good morning Milano Qui con Fabio Songa E stiamo parlando Del percorso Che ci porta Verso Patrimonio dell'UNESCO Per Chiaravalle Che speriamo Ci porta Non siamo superstiziosi E' un percorso appunto Come abbiamo detto Provo in pochi secondi A spiegare Innanzitutto nasce dal basso Nasce dall'associazione Di Chiaravalle Che hanno Negli anni La nostra È stata creata Quasi 20 anni fa Hanno posto Il problema Di una salvaguardia Di uno sviluppo Di Chiaravalle Questa però È stato un po' Un grido nel deserto Abbastanza inascoltato Salvo Poche eccezioni Invece Ultimamente Devo dire Che abbiamo incontrato L'attenzione Prima del Municipio 5 Che io Continuerò a ringraziare Di cuore di questo E poi anche Del Comune di Milano E abbiamo avviato E adesso sì A livello istituzionale Questo percorso Quindi la grande novità Rispetto agli anni precedenti Che mentre prima Eravamo Un'associazione Di persone Di buona volontà Ma insomma Un po' deboli Adesso abbiamo Il Comune di Milano E il Municipio 5 Che diventano capofila Di questo percorso Cosa vuol dire? Abbiamo fatto Moltissime riunioni Di commissioni Sia del Municipio Sia del Comune Dove siamo arrivati? Siamo arrivati Al fatto che Il 2 agosto Il Comune di Milano La Giunta Di Milano Ha avviato il percorso Anche tramite Un investimento Non enorme Ma insomma Consistente Per avviare Questo percorso Cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna Bisogna pagare Bisogna pagare Dei consulenti Perché In realtà Diventare patrimonio Unesco Vuol dire Che per anni Ci siano Commissioni E gruppi di lavoro Che elaborano Documentazione Che Propongano Anche Delle soluzioni Ai problemi Aperti E quindi Va fatto Da professionisti Ci vuole L'appoggio Delle istituzioni Questo l'abbiamo ottenuto Col Comune E con Il Municipio E ci vogliono I professionisti E poi ci vorranno Anche gli sponso Perché Poi Cosa comporterà Essere appunto Patrimonio Dell'Unesco Cioè Spendiamo dei soldi Va bene Facciamo tutte Le riunioni Tutte le cose E poi Abbiamo la targhetta Che ci attremmo lì E no Ecco Perché la targhetta Non viene In modo facile Perché c'è una commissione Internazionale In cui ci sono Membri Magari Dello Sri Lanka Piuttosto che Dell'Indonesia Che devono valutare Quindi stiamo parlando Di qualcosa Di molto complesso E ovviamente Ci vogliono Delle azioni Incisive Per arrivare a questo Nella Salvaguardia Tutela e sviluppo Del territorio Quindi detto in maniera Molto brutale Per i cittadini Di Chiaravalle E per Coloro che da Milano E da altre zone Vengono a Chiaravalle Per godersi Vorrà dire Trovare un posto Molto più pulito Molto più servito Con Un'attenzione All'ambiente Perché dice anche Molto più servito Perché comunque Vengono anche richieste Certi Facilities E' una cosa Molto complicata Io non sono Come dire In grado Di darti Delle spiegazioni Tecniche Anzi Magari Si potrebbe Fare una trasmissione Invitando Gli esperti Quando vuoi Quando vuoi Però Noi Ci candidiamo Come paesaggio Culturale Paesaggio Culturale Paesaggio Culturale Quindi L'abbazia Ovviamente È il centro Anche storicamente È il centro Di questo Paesaggio Culturale Come dicevo Prima Per il ruolo Svolto dai monaci E Questo vuol dire Che Per esempio Banalmente Questi gruppi Di lavoro Devono definire I confini Di questo Paesaggio Culturale Ti faccio un esempio Molto concreto Perché ci tengo Ieri mattina Nocetum Ha organizzato Una passeggiata Da Viboldone A Nocetum Quindi Attraversando Chiaravalle A piedi Perché Stanno valutando In una commissione In rapporti Con la commissione Regionale Stanno valutando Il percorso Dei monaci Il cammino Dei monaci Che si inserirà Nei cammini Dei monaci A livello nazionale E quindi Stanno studiando Anche i percorsi Che si possono fare A piedi In bicicletta E tra l'altro Anche percorsi Che siano adatti A disabili Ok E per esempio Ieri Dovevano passare Dall'area Di San Francesco Diciamo Tangenzialmente Non entrarci Perché è privata Però Interessata appunto All'idea Dello stadio Eh sì E quindi Lo sviluppo Che noi pensiamo È anche Uno sviluppo Inserito Nella valle E fin qui Sono le belle notizie Poi adesso Ci ascoltiamo Una canzone Ma dopo Che abbiamo invece Che insomma C'è chi Da una parte Vuole fare il cammino Dei monaci Vuole portare Positività Alla zona Chi dall'altra parte Prendendosi Un San Francesco Decide che Si potrebbe sostituire A un San Siro Ecco quindi Tutta questione Di santi Ma noi i monaci Dobbiamo Dalla nostra parte Ecco perché i monaci Si incazzano A me è questa cosa Che il Milan È riuscito A fare a rabbiare i monaci Cioè Quando tua amma Ti diceva Tu faresti Incazzare anche i santi Ti dicevano Ecco Loro ce l'hanno fatta Quindi questa cosa Mi fa impazzire Davvero Andiamo con un po' di musica Poi torniamo qui Con Fabio Songa A parlare appunto Devo capire Devo farci capire un po' Come sta andando Adesso la situazione A che punto siamo So che neanche tu lo sai Inolta Ma posso dire Come nessuno sa A che punto siamo Però Forse potremmo cominciare A fare un po' di idee Di scenari possibili E speriamo Che il scenario Quello che invece funzionerà E alla fine avremo Sarà quello Del patrimonio Dell'UNESCO Paesaggistico No come che è Paesaggio Com'è Paesaggio cultura Paesaggio culturale Di Chiaravalle Ma suona Suona anche E molto molto bene Adesso Zucchero Amor che muovi il sole Appunto Amor che muovi il sole Zucchero Ma si muove anche il cielo Le stelle Sotto il cielo Di Chiaravalle Si muovono tante cose Fabio Songa Si Si muovono tante cose Il 6 ottobre abbiamo fatto La presentazione ufficiale Ok Devo dirti che è stata Una giornata bellissima Perché è cominciata la mattina Con la visita a Terra Rinata Di cui parlavo prima Poi abbiamo fatto Un concertino davanti Cioè hanno fatto Un concertino davanti Alla Beccheri Che è il bar Panetteria Pasticceria Focacceria Di Chiaravalle E hanno eseguito La ballata di Chiaravalle Di cui dicevamo prima Poi ci siamo spostati Al Mulino Che è un posto bellissimo Visitato da 15.000 bambini all'anno Per darci la dimensione È un posto didattico Anche in cui Fanno vedere Il pane Il grana padano Una cosa molto interessante Ci siamo spostati lì Perché L'ingegnere Iurina Ha presentato Lo spacchettamento Cioè la fine dei lavori Della Cirbiciacola Che dopo alcuni anni È tornata Al suo splendore E ha spiegato Le difficoltà tecniche Di farlo Poi ci siamo spostati A Terzo Paesaggio Che è un luogo Importantissimo Di Milano E di Chiaravalle Ovviamente In cui appunto È stato presentato Il percorso E lì Sono intervenuti Sia Amministratori Sia Anche Le persone Incaricate Che sono La Bocconi Ebia Che è una società Di consulenza Incaricati Di avviare Il percorso Cosa vuol dire In maniera molto semplice Che entro dicembre Bisognerà Presentare Uno studio Di prefattibilità Come si fa Come si fa Guarda Anche in modo Molto semplice Stiamo facendo Sopralluoghi Stiamo girando Chiaravalle I suoi dintorni Immagino poi Tu sei Chiaravellese Da 30 anni Chissà quante cose Però stai scoprendo ancora Continuamente Continuamente Soprattutto Lì è un luogo storico Fondamentale Prima parlavo di Nocetum Forse molti non sanno Che quando Barbarossa Ha devastato Milano Non Luca Non quello L'alto Barbarossa Anziano Ha devastato Milano I cittadini di Milano Sono scappati E una quota consistente Sono scappati Nel borgo di Nocetum Tra l'altro Lì c'era anche Una zecca imperiale Pochi lo sanno Ma è una cosa interessante Per cui lì Tra Chiaravalle Nocetum Era una zona Di centuriazione romana Quindi voglio dire Magari un giorno Si troverà qualcosa Scavando Non dire così Magari quelli scavano Per dire Ah vedi Facciamo lo stadio apposta Per vedere cosa c'è sotto Quasi quasi Mi veniva voglia Di rubare una statua Portarla Sperlirla Farla tirare fuori Da San Francesco E bloccare tutto Per decenni No vedi Lo facciamo apposta Così facciamo vedere Adesso non vorrei Che ci fosse un furdo Di stato Ma restasse Da qualche parte E qui L'alibi c'è E qui E qui E ahimè Ora che da qui Tonya Chiaravalle Ne passa di tempo Nonostante la M4 Comunque non ci aiuta In questo caso Ho fatto ancora una volta Volentieri questo viaggio La terza volta Che vengo da te E qua mi trovo benissimo Ma grazie Fabio Mi lusinga questo Grazie Senti Dacci Manca poco Da poco chiudiamo Ma dacci un po' punto Allora Cosa avete pronto Nei prossimi mesi Settemane Allora Beh innanzitutto Faremo Il bello è che non è che Gli ho chiesto prima Avete cose So già che hanno cose Quindi non sto neanche a chiederglielo Cos'hanno Pronto da raccontarci Ma guarda Per fare le cose bene Innanzitutto bisogna studiare Per esempio bisogna capire Come dicevo I confini E quindi Che cosa ci va dentro Per esempio Andrà dentro sicuramente Casa Chiaravalle Che è un bene sottratto alla mafia Che adesso è gestito da associazioni Andrà dentro Nocetum Andrà dentro La cascina Carpana Che sarà oggetto Di un intervento importantissimo Promosso Della casa delle donne maltratate Per dare lavoro A madri Con bambini Ristorante Entreranno tante L'abbazia di Viboldone L'abbazia di Viboldone Eh sì E quindi Una ricognizione ampia Cioè tutto questo E quanti metri quadrati Perché sono pensato Cioè due abbazie così Una attaccata all'altra praticamente Guarda Non te lo so dire Sono vicinissime però C'è nel senso E vi fa capire Come la zona era così importante No no Due abbazie Nel dacco di qualche chilometro quadrato Guarda Già è stata devastata purtroppo Da tangenziali Linee ferroviarie Tieni conto che Fino a Vent'anni fa Quando io sono arrivato a Chiaravalle C'era ancora la linea di Milano Genova Che passava a pochi metri Dalla Ciribiciaccola Ok Che ha causato Negli anni Danni importantissimi Alla struttura E soprattutto Che Quando è stata costruita Ha portato ad abbattere Il chiostro di Bramante Quindi voglio dire I devastatori Sono sempre esistiti Sempre esistiti Però l'importante è che Gli cittadini E anche la buona politica Che ogni tanto c'è Fermi i devastatori Quindi quello che si diceva Prima su San Donato È che se ci fosse Una buona politica lì Il sindaco Poteva dire subito no Come ha fatto il sindaco Di Segrate Come ha fatto il sindaco Di Cassinetta Di Luganiano Come ha fatto Il sindaco di Buccina E sì perché bravo Stai dicendo una cosa interessante Non è che hanno detto Andiamo a farlo lì Prima di arrivare lì Hanno fatto un po' di peregrinaggi In giro per altri Sì Sesto Mi ricordo anche io Parlo quasi 30 anni fa Si parlava anche di Cusago Ma sì Poi si è parlato È andato praticamente ovunque Questo stadio Si E io spero che faccia La cosa più logica Torni a San Siro Riqualificato Non con un altro stadio A fianco Riqualificato Perché non c'è bisogno Di abbattere San Siro Ne di Bisogna riqualificarlo Cioè voglio dire We Build Ha presentato un progetto Non è esattamente Una società Di scappati di casa Ma insomma Sono quelli che hanno fatto La M4 E quelli che Sabato mattina Sono stati osannati E applauditi Dal sindaco Dal ministro E dal ministro Insomma Quindi Se da una parte Si dice che sono bravi A fare le cose Non si capisce Perché in questo caso Magari non ascoltarli Sarebbe interessante Anche perché Appunto L'idea Di riqualificare Lo stadio di San Siro Che è In ottime condizioni Comunque ricordiamoci Sempre questo È in ottime condizioni Tanto che doveva esserci Una finale di Champions League Che ci hanno tolto Però perché Non sanno più Se lo stadio ci sarà o no O meno Più che altro Non sanno in che condizioni Sarà il resto Intorno allo stadio Ma lo stadio È in ottima condizione Ancora oggi Quindi basterebbe Ovviamente poco Per far diventare E ritornare Ai giusti fasti E anche poi Darlo alle società Insomma Capiamo che le società Insomma Da qualche parte Il business Lo devono fare Perché solo Tirando pesce dal palun Fammi capire Anche perché Non sta andando molto bene Ecco infatti Ma volevo arrivare Anche a quello Da milanista Lo dico con tristezza Beh però può essere Una speranza Perché se va male Non c'ho i soldi Per farlo stadio Vedi eh Fabio devi capire Da che parte Il tuo cuore Si divide in due Sì 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 Si divide in due Ma il cuore sano È quello che batte Per Chiara Valle Oh E allora Grazie mille Fabio Songa Davvero Grazie a voi Grazie a tutti Porti i nostri saluti A tutto il grande comitato Vi aspettiamo Tu mi porti un monaco Voglio un monaco Incazzato qua Ti prego Io lo voglio Però è possibile Ma loro sono In una dimensione Fra incazzato Lo chiameremo Chiameremo così Però devo dirti Che c'erano alcuni monaci A sentire la canzone E si sono commossi Vedi Eh ma vedi Perché insomma Perché parla di loro Della loro storia Del loro cammino E questo è importante Cammino Cammino Che continuate Anche voi Che farete insieme Tra monaci E non solo Tra queste intelligenze Di cui parlavamo Per poter Sperare Per poter Speriamo Di vedere un giorno Appunto Chiaravalle Patrimonio mondiale Dell'UNESCO Che insomma Se lo merita E come Grazie mille Fabio Songa Grazie a voi Grazie Andiamo con un po' di musica Poi torniamo qui Con i saluti finali Sempre qua Con Manica Iana Adesso Una ragazza Crystal Radio Good morning Milano Grazie a tutti